Il sindaco di Ponte Gagnano Faiano Giuseppe Lanzara interviene sul problema degli odori nauseabondi che negli ultimi anni, soprattutto nel periodo estivo, avvolgono le strade del territorio in una nube maleodorante e presumibilmente nociva. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha inviato una lettera agli organi di competenza affinché in tempi celeri vengano effettuati dei controlli presso i siti di stoccaggio di Sardone ed Ostaglio al fine di assicurare i residenti sul corretto funzionamento delle strutture anche considerati i miasmi percepiti in modo sempre più intenso in questi giorni in città. Due le richieste in particolare, ispezioni in entrambi i siti in tutti i mesi dell'anno con la redazione di un report dettagliato sulle condizioni in atto negli stessi. Effettuare una visita unitamente ai tecnici dell'ente da lui rappresentato alle sedi suddette per acclarare il rispetto della normativa vigente in ambito sanitario ed ambientale.